L'ultima cosa di cui voglio parlarti è la musica. Io posso mettere una musica di sottofondo alla mia presentazione. Le musiche le trovo ovviamente, vedi qui dove c'è l'icona audio. Posso utilizzare dei filtri. Gli effetti sono solo con il programma a pagamento oppure quello edu per la scuola, altrimenti non ci sono. Però io posso cercare delle musiche che siano solo strumentali, solo cantate. Adesso possiamo anche lasciare listare i filtri, non è importanza. Qui sotto la casella di ricerca mi vengono già date delle categorie. Ecco ad esempio qua abbiamo queste due categorie, vediamo un po', sentiamo. Per sapere non è necessario che io lo carichi e basta che faccia così. Infatti mi dice solo chitarra, oppure vediamo qua. Diciamo che mi sta bene questo. Se clicco su questi puntini mi viene dato il nome dell'autore, mi viene confermato che lo posso utilizzare gratuitamente senza problemi. Per sceglierlo faccio quello che faccio per tutti gli altri elementi di Canva. Clicco ed ecco che mi viene messo qui in basso. Abbasso un attimo l'audio. Quando il suono parte si apre qua in alto la barra che abbiamo visto anche prima per i video e ti dice quanto tempo di riproduzione ti viene dato. Allora, sono 33 secondi. Io con la manina posso decidere di scegliere però non necessariamente i primi 33. Posso decidere di prendere questi. Perché magari mi piacciono di più. Seguendo l'onda audio io capisco anche dove la musica è più pacata e dove magari è un pochino più mossa. Allora, vediamo qua. Va bene, allora ho deciso che i miei 33 secondi li metto qui. Benissimo. Vedi che la musica prosegue. Per tutto il tempo della mia presentazione. Questo è un modo per inserire della musica. Può essere un'idea laddove io non ho molte parole, non ho delle registrazioni audio di spiegazioni, eccetera. Altrimenti la musica distrae. Può essere invece una buona idea se quello che faccio vedere è prevalentemente foto e video. E quindi la musica mi dà una colonna sonora che accompagna la mia visione. Quello a cui devi fare attenzione però è che una volta scelto il tema musicale questo rimane per tutte le pagine che tu hai inserito. Vediamo invece quello che posso fare se a me non interessa mettere una musica per tutto il tempo ma voglio mettere magari una musica soltanto per il video che ho inserito. Allora adesso cancello questa ok io voglio mettere una musica soltanto qui. Per ora canva non permette di farlo o perlomeno diciamo che non c'è un comando che permette di inserire la musica solo su un video presente in una pagina. Però si possono utilizzare dei trucchetti. Allora quello che voglio farti vedere adesso è come fare in modo di avere una musica solo per questo video. Vado su home page. Gli dico che voglio una presentazione nuova. Vado a cercare il video che mi interessa, che mi comparirà tra gli usati di recente. Lo metto a tutta pagina. Ritaglio Quei secondi che mi interessavano erano 15.3 Ecco qua Fine Questa è la riproduzione, la stessa riproduzione che avevo scelto prima Audio Cerco una musica nel settore Epic Questa qua E la inserisco Direi che si adatta benissimo. Io in pratica ho bisogno solo di 15 secondi di questa musica. Allora vado nella barra qui sopra Vedo che la riproduzione che ho a disposizione dura proprio 15 secondi Poco più Quindi mi va bene Vediamo come si presenterebbe Beh, direi che va proprio bene bene Il gatto arriva Cos'è successo? Cos'è successo? Siccome abbiamo detto che io ho a disposizione soltanto questi 15 secondi scarsi 15 e 2 Ma il mio filmato durava di più Automaticamente Canva fa andare la musica in loop Cioè, cosa vuol dire in loop? Vuol dire che quando finisce il pezzo ricomincia da capo Però se hai notato Si sentiva lo stacco, era proprio brutto Allora io devo fare due cose Due cose perché la mia presentazione si è fatta bene Intanto, visto che la musica dura 15 secondi e 2 Tolgo un paio di secondi del video Niente di più facile Vedi che è 15 e 3 Io prendo la mia maniglietta E gli dico Fermati a 15 e 1 Ecco, così sono proprio sicura In realtà non si nota la differenza Però il prodotto finale sarà molto diverso Poi torno sulla mia musica Che dura 15 e 2 circa Clicco effetti audio E gli dico Riduci gradualmente il volume Cosa significa? Significa che quando arriva alla fine della riproduzione Anziché terminare bruscamente Il volume della riproduzione si abbasserà in modo graduale Fino a spegnersi Allora io gli dico Guarda Diciamo che 3 secondi prima della fine Riduci il volume Sentiamo quello che succede Guarda la barra Ecco Hai sentito? Arrivati a 12 secondi Ha cominciato ad abbassare il volume Infatti Se puoi notare Te lo allargo un po' Ecco Questo significa Che non è più troncato Come abbiamo visto prima Ma Pian piano Il volume Diminuisce Adesso che abbiamo sistemato Il nostro video Gli mettiamo Un nome E lo scarichiamo Attenzione Allora Scarica Lui ti propone sempre pdf Quindi bisogna stare attenti Vado in video E gli dico Scarica Ecco fatto Il video è stato scaricato Ora non mi resta che Tornare sulla presentazione Eccola qua Cancellare questo Perché Non mi serve Andare su Caricamenti Carica file Lui me l'ha Scaricato Ovviamente Nei Download Eccolo qua Video MP4 Apri Gli diamo Vedi Qualche Secondo Perché Scarichi Il video Poi Clicco Adesso Devo sistemarlo Ovviamente Allora Lo rimpicciolisco Lo sposto E il gioco E il gioco è fatto Vogliamo fare una prova? Partiamo dall'inizio Presenta Vedi che non c'è nessuna musica Adesso Io vado avanti Ci sono Le mie pagine La musica parte solo La musica parte solamente alla visione del video In questo caso ti dirò che io avrei fatto anche una modifica Anche perché il video è molto bello La musica parte in automatico e anche il video Io avrei messo questo in una pagina nuova Cioè avrei creato una pagina in cui inserire il video completamente Poi avrei trovato il posto per dire che magari non so qui in basso avrei scritto che i gatti sono agili Però secondo me l'effetto è decisamente migliore ma comunque lo puoi tenere anche qua In pratica io ti ho spiegato semplicemente un trucchetto per riuscire a inserire un video con un sottofondo musicale senza dover mettere la musica su tutta la presentazione Bene per oggi è tutto ci vediamo alla prossima e come sempre buon lavoro